L'ultimo colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato all'antica fonte, ristorante del centro Aretino. Solamente una settimana fa un'altra razza dei ladri, in questo caso i danni della pizzeria Il Vesuvio, sempre nel cuore della città. E poi ancora un tentativo di furto in un bar a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Le scorribande dei banditi che prendono di mire i locali pubblici si stanno così moltiplicando nelle ultime settimane, soprattutto nelle ore del coprifuoco. I commercianti, già martoriati dagli effetti della pandemia, si trovano adesso dunque a combattere anche con i furti. E così Anna Lapini, presidente di Confcommercio, ha preso carta e penna ed ha scritto al prefetto di Arezzo per chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Dopo gli episodi denunciati ad Arezzo, dove finora sono state colpite cinque attività, ci sono arrivate notizie di tentativi di furto anche nelle vallate, per esempio a Sansepolcro, sempre ai danni di ristoranti, spiega Anna Lapini. Logico che la paura di subire furti ed atti vandalici stia crescendo tra gli imprenditori di tutti i settori e si aggiunge alle pesanti preoccupazioni legate al momento che stiamo vivendo. Non possiamo davvero permettercelo né economicamente né psicologicamente, per questo chiediamo un aiuto alle autorità. La presidente di Confcommercio inoltre sottolinea come il 20% dei commercianti e dei titolari di pubblici esercizi aretini avverte rischiosura e tentativi della malavita, né impadronirsi delle aziende. Si tratta di timori, spiega, fortemente accentuati dalla crisi pandemica e dall'incertezza dello scenario economico. Chiediamo quindi di non essere abbandonati e che non lo siano neppure le nostre città. Non vorremmo che dalle 22 in poi diventassero zona franca in mano a pochi balordi. Confcommercio attende quindi la risposta del prefetto. C'è bisogno di avere rassicurazioni, conclude Anna Lapini, da chi sul territorio rappresenta la massima carica istituzionale.